Nella ricorrenza del 249esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, i reparti del Comando Provinciale di Messina hanno rilasciato i dati sulle attività degli ultimi 17 mesi. Le ispezioni hanno riguardato soprattutto il contrasto a fenomeni criminali, maggiormente lesivi delle entrate erariali. Il monitoraggio dell'impiego delle risorse pubbliche sul corretto andamento della pubblica amministrazione, la tutela dell'economia e dei mercati dalle infiltrazioni criminali e dai traffici illeciti, la vigilanza delle acque territoriali e dei litorali messinesi, in ossequio alle peculari funzioni di Polizia del Mare, affidate per legge dal 1 gennaio 2017 al comparto aereo-navale della Guardia di Finanza, oltre che concorrere con le altre forze di Polizia alla realizzazione del dispositivo di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Nel 2022 e nei primi 5 mesi del 2023 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito oltre 4.000 interventi ispettivi e circa 600 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Le attività investigative e di analisi sui crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di accertare i crediti inesistenti per oltre 33 milioni di euro. Individuati 147 evasori totali, ossia esercenti di attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 1.300 lavoratori in nero o irregolari, scoperti in oltre 44 casi di evasione fiscale internazionale. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 42 interventi che hanno portato alla denuncia di 126 persone di cui 3 tratte in arresto e al sequestro di beni per un valore di oltre 7 milioni. Nell'ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse 34 indagini che hanno permesso di denunciare all'autorità giudiziaria 110 soggetti, di cui 13 colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.